Per quel che riguarda i bidoni stiamo aspettando l'esito di un bando nazionale sul PNRR per l'acquisto di isole ecologiche e isole ecologiche interrate, non faremo il porta a porta da per tutto, adesso è partito a San Paolo e siamo a quasi 100 mila cittadini che fanno il porta a porta, con i 25 mila del San Paolo abbiamo iniziato da una settimana, negli altri quartieri periferici sarà il porta a porta, in quelli più centrali si utilizzeranno queste isole ecologiche, si ridurrà il numero dei bidoni, alcune stazioni saranno interrate, Corso Vittorio Emanuele è una di quelle strade dove ci saranno i bidoni interrati.